Devo dirlo, mi trovo palesemente in difficoltà perché io credevo di sapere qualcosa sull'attrice di cui parleremo oggi mi sono reso conto che probabilmente non ne so poi così tanto e oggi parliamo della più grande diva hollywoodiana di sempre molto probabilmente che tiene il pari a Audrey Hepburn e forse anche, diciamo che nella storia sarà anche più di Marilyn Monroe e stiamo parlando di Meryl Streep al secolo conosciuta così che nasce il 22 giugno del 1949 e il suo nome completo è Mary Louise Streep un oceano fatto di recitazione, fatto di dolore, di porte che si chiudevano poi si riaprivano e poi una filmografia infinita solitamente quando nel calcio si parla della bravura dei calciatori molto spesso vengono ricordati i numeri bene, è il caso di Meryl Streep perché Meryl Streep va ricordata anche attraverso i numeri e i numeri delle volte si dice sempre che parlano da soli i numeri dicono testualmente così 31 candidature ai Golden Globe di cui 9 vittorie e un premio alla carriera record assoluto di candidature agli Oscar 21 con 3 vittorie condivide con altre 7 colleghe il piacere di dividere il premio di aver vinto il premio sia come miglior attrice protagonista sia di attrice non protagonista vittorie dell'Oscar non sono un record ma ci arriveremo molto probabilmente nel corso del tempo il record assoluto appartiene a Dodori Hebburn sono 4 statuette vinte lei viaggia alla media di 3 ed è attualmente la donna in vita col record assoluto di statuette vinte eppure la vita di Meryl Streep non è stata così facile prima di entrare nel mondo della recitazione è il primo che forse non so se è il primo ma la storia più famosa che lei racconta a chiudere le porte è stato proprio un italiano Dino De Laurentiis qualcuno sicuramente conoscerà Aurelio De Laurentiis nonché anche presidente del Napoli Calcio è colui che produce attraverso la Filmauro anche molti dei cinepanettoni che abbiamo visto nel corso della storia Dino De Laurentiis stava mettendo su la produzione di King Kong fa il provino una giovanissima Meryl Streep che però viene rifiutata per il ruolo perché proprio durante il provino Dino De Laurentiis in italiano disse ma perché mi hai portato una così brutta lei riuscì a capire quelle stesse parole e disse forse non mi prenderei perché sono così brutta ma forse troverò più in là qualcuno più gentile che sarà più carino con me e lo troverà sì e bisogna dire che Meryl Streep ha avuto l'intuito di diventare attrice io credo che abbia frequentato la scuola di Strasberg e che abbia avuto comunque un percorso di crescita anche dal punto di vista tecnico anche se sinceramente per le poche performance che ho visto in lingua originale di Meryl Streep non credo che questo tecnicismo le serva e molto spesso l'ho ripetuto anche nei podcast precedenti è la naturalezza che portava avanti determinati progetti e Meryl Streep ha dimostrato ampiamente di essere un oceano e l'incendio allo stesso tempo poteva divampare all'interno di una foresta attraverso la sua arte o poteva annegare tutto ciò che le stava intorno perché lei trascinava le pellicole quasi sempre da sola Il Diavolo Veste Prada che è il primo ricordo che io ho di Meryl Streep mi dispiace anche averla confusa soprattutto da bambino con Glenn Close forse perché portavano la medesima doppiatrice che è Maria Pia Di Meo in lingua italiana mi ha confuso molto pensavo fosse anche lei la protagonista della carica dei 101 in realtà non fu così Il Diavolo Veste Prada è il mio primo ricordo e sicuramente anche il mio primo ricordo per Anne Hathaway che è un'attrice anche lei premiata con dei premi Oscar è un'attrice di grande valore istituzionale nel contesto hollywoodiano ma Meryl Streep ha fatto molto la storia parlavamo di queste candidature agli Oscar ragazzi 21 candidature sono impressionanti l'ultima è avvenuta nel 2017 con il film The Post con Tom Hanks e proprio Meryl Streep hanno fatto anche un'intervista da Fabio Fazio poi conosce i personaggi sotto diversi aspetti sotto nuovi aspetti e anche Meryl Streep fuori dalla vita è veramente un fuori dal contesto cinematografico scusatemi una donna dolce che ha saputo portare con sé il dolore che ha che gli hanno dato quelle porte chiuse quella prima quella famosissima per il film di King Kong dicevamo con Dino De Laurentiis ma poi dal 1977 in poi quando c'è il suo debutto cinematografico è una scesa infernale impetuosa col primo Oscar che viene vinto con Kramer contro Kramer le collaborazioni infinite con artisti incredibili i ponti di Madison County fatti con Clint Eastwood ci sono film che io neanche conoscevo probabilmente innamorarsi con Robert De Niro che ha portato anche la vittoria del Davide di Donatello ecco quello che porta con sé Meryl Streep in tutte le sue interpretazioni secondo me è racchiuso in una frase che lei ha detto durante un'intervista ed è prendete il vostro dolore e trasformatelo in arte ecco e qui l'essenza di ogni attore dovrebbe partire da qui dal proprio dolore dal proprio dolore vi è questa sorta di ricerca che poi diventa quello che dicevamo di lei un modo di relazionarsi col pubblico con tutto ciò che la circondava in maniera empatica il mio primo ricordo è Il Diavolo Oeste Prada lo dicevamo è un'interpretazione intensa precisa e nonostante il film porti con sé delle critiche comunque ricordiamo questo è un aspetto della commedia ma nel drammatico Meryl Streep ha fatto senz'altro la storia di questo di questo mestiere e poi c'è veramente cioè io mi trovo quando parlo di Meryl Streep quasi senza parole perché è difficile trovare una donna che non sia Audrey Hepburn ok Audrey Hepburn probabilmente è stata la prima donna che è riuscita a fare la storia del cinema hollywoodiano per le sue interpretazioni che ha fatto ecco ma la degna erede di quel percorso artistico ma non ha vissuto il dramma magari della depressione degli psicofarmaci come Audrey Hepburn perché comunque per quanto riguarda la persona pubblica di Meryl Streep noi portiamo ci portiamo con noi un aspetto lodevole lodevolissimo mai una parola fuori posto mai un gesto sbagliato un'azione scorretta Meryl Streep è semplicemente dolce tenera nell'apparire nei grandi schermi solitamente anche questo aspetto antipatico che portava nel diavolo Veste Prada è un'interpretazione lodevole non è molto semplice da portare avanti nonostante il film non sia un gioiello ecco non è un vero e proprio gioiello che porta con sé l'attrice ma è parte di me perché è stata la prima cosa il primo ricordo che ho di questa attrice e tutto il percorso che ha fatto prima di registrare questo podcast ho letto un po' tutta la sua storia e io sono rimasto impressionato lavori con Clint Eastwood come dicevamo Woody Allen con Manhattan ha lavorato con Steven Spielberg in Hey High roba assurda e incredibile io non non riesco a trovare dei difetti all'interno di questa attrice ma ripeto perché persona pubblica e persona privata spesso secondo me nonostante noi non la conoscessimo e non sapessimo molto riguardo questa attrice coincidevano molto sicuramente è quella sorta di empatia che ci portava avanti ci ha resi un po' diversi ci ha ci ha dato serenità attraverso le sue pellicole e mi ha impressionato mi ha impressionato sempre dal primo momento ha presentato anche i Nobel cioè nel 2011 a Oslo con Liam Neeson segnato universitario di Meryl Streep che lei già faceva dei laboratori teatrali e diverse cose del genere disse che lei non aveva bisogno di studiare per fare l'attrice era una cosa che aveva dentro ed è la verità perché non non si può prescindere dal fatto che l'attore si debba fare perché si è bravi tecnicamente a fare qualcosa molto spesso lo dicevo lo dico e lo ripeto anche come ho detto nei podcast precedenti lei ha fatto tantissimo teatro compreso il teatro di Broadway quindi già a livelli strepitosi altissimi all'interno del contesto mondiale della recitazione e non sempre il tecnicismo premia sulla naturalezza e la naturalezza è qualcosa che non puoi ricercare puoi sì dir meglio una parola sistemare l'articolazione l'addizione tutto quello che vuoi nel mondo italiano nel mondo ovviamente artistico italiano nel mondo artistico estero in questo caso statunitense ma tu non puoi non puoi cercare qualcosa se non l'hai e lei aveva come ho detto il fuoco e l'oceano allo stesso tempo dentro di sé era trascinante era trascinante in tutti gli aspetti che portava dietro con sé e c'è un'interpretazione molto bella che è quella del 2011 credo che sia stata l'ultima vittoria agli oscar proprio questa ed era la lady di ferro the iron lady dove interpretava questo personaggio britannico tra l'altro lei assistette a una seduta del parlamento inglese proprio nel 2011 che è l'anno di produzione di questa pellicola e lei lì è è la lady di ferro è Margaret Thatcher in tutto e per tutto io non riesco a vedere in Meryl Streep dei difetti sinceramente sembro quasi noioso a parlare di questa di questa attrice ma è una tipologia di attrice che non puoi ritrovare in nessun altro soprattutto ecco il suo charme il suo charme non lo trovi e non lo puoi replicare non si può replicare perché è qualcosa di innato ecco il termine esatto è innato ecco esattamente innato Meryl Streep era così e così doveva essere e mi dispiace che Dino De Laurentiis abbia l'abbia cacciata per una questione di bellezza beh bisognerebbe ricordarlo agli artisti a tutti gli artisti che oggi fanno questo mestiere che non sempre la bellezza premia e che il teatro la recitazione e l'arte sono e devono essere per tutti